Buongiorno a tutti, io sono la dottoressa Angela Mecca, sono un medico veterinario, libro professionista. Io sono specializzata in ispezione degli alimenti di origine animale. Mi occupo di consulenza per i piani qualità, HCCP, certificazioni volontarie per le aziende. Sono un consulente esterno. Mi sono avvicinata al mondo delle certificazioni HALAL a seguito della richiesta di un'azienda per cui io faccio consulenza esterna e interessata comunque al mercato internazionale e nello specifico al mondo musulmano. Ho partecipato a questo corso di formazione qui a Bologna il 11-12 maggio perché avevo necessità di approfondire le mie competenze in materia. Devo dire che è stata un'occasione davvero molto costruttiva, mi ha aperto a nozioni che io non possedevo e che ritengo di poter spendere e mettere a disposizione dei miei clienti sicuramente affinché loro possano a loro volta spendere questa caratteristica e aprirsi al mondo musulmano, islamico che ritengo sia comunque un settore molto presente sul nostro mercato. Grazie.